Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Tommaso, non ho sbagliato un'ora ricercati, andiamo un po' in sopravvivenza Oggi ci mancano 10 gettoni e apriremo una megacassa Allora, stiamo con un mio amico Luca, saluta Siamo in chiamata, forza metti pronto un po' Allora, vai Quindi dovevamo fare questi 10 gettoni, eh? Aspetta la tarava e spara ora Bravissimo Aspetta l'altro team, no mi hanno bloccato Ma che è quella cosa che ti blocca? Vediamo un brawler che c'ho da portare al nuovo grado Lui, mi manca una coppa No lui Bombardino, ok Aspetta, è pronto Oh mio Dio, dai Che apriamo sta megacassa, dai, dai Secondo me comunque non ci trovo niente perché ho trovato ieri l'abilità stellare di Colt Da me, da me, da me Da me, da me Non ci andai, eh Camperatela, camperatela, camperatela Camperatela Eh, sono dislessico Camperatela No, va bene, così va bene Vai, intimo l'ho ucciso Bene, pure quello l'ho ucciso Balissimo, c'eri Lo metto qui Non è morto Sta a recuperare pure vita quello È da me, è da me, è da me Scappa, 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 scappa Dai, devi camperare più forza Non sparare a nessuno In quattro squadre siamo ancora, sì Oh mio Eh, ci dovrebbe essere una Piper No, non c'è C'è la niente però No C'è 12 power up, non vedi Ora si, ha 3000 di vita, pussa C'è poca vita È morta Era qui, non l'avevo visto Sei vivo Bravo Eh, niente, va bene Sì, l'ho fatti Lezione, ragazze, ragazzi Preghiamo in Dio Per favore Dio, per favore Sì, skip E' il gadget di Penny L'ho trovato E dai Ma io Penny È vero, io potrei portare I gadget di Penny Non ci ho pensato No Sera potevo trovare un brawler O un abilità stelare di colte Oppure quella di Penny Io potrei portare un bot di brawler Che posso trovare il gadget Però non ce li porto Perché almeno C'è più probabilità di trovare il brawler Va bene, ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao